Amici 17, il riassunto del Daitime del 15 dicembre. Emma Muscat al posto di Audi Lunga H, ecco chi è. Lo scorso 15 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Daitime di Amici 17 su Real Time. Nel corso dell'episodio abbiamo assistito alla preparazione dei ragazzi della scuola alla sfida di sabato 16 dicembre. Ma non solo. La puntata è stata infatti di ricca di sorprese, belle e brutte, per gli allievi, in questa occasione, infatti, abbiamo assistito all'eliminazione di Audia, costretta a lasciare la scuola. Al suo posto è subentrata Emma Muscat, una 17enne di Malta che non parla italiano ma soltanto inglese. La puntata si è aperta con il re-epilogo di quanto visto ieri, ai concorrenti in sfida sono stati presentati gli sfidanti, nello specifico i cantanti Nimba, Lorenzo Ciolini, Emma Muscat e il ballerino Dylan. Successivamente, abbiamo visto maestra Alessandra Celentano seguire Valentina nell'ennesima, disastrosa lezione. Alla professoressa di ballo non piace proprio questa concorrente, ma tenta comunque di spronarla in qualche modo. Sembra difficile, in ogni caso, che possa cambiare opinione, pare che ci sia ancora molto lavoro da fare. Nel corso della puntata abbiamo scoperto chi saranno due capitani delle squadre, Biondo per il fuoco, e Inar per il ferro. E Inar ha l'impressione di non piacere ad alcuni dei suoi colleghi e si sfoga con Luca che è biondo.